Ci dicono che è tutto pronto, quindi possiamo cominciare. Buon pomeriggio a tutti, canale 2 c'è dopo il Tg, la settimana è già cominciata, fra tanti problemi, tante peripezie, si sono riaperte le scuole, la vita adesso comincia ad assumere quello che è l'aspetto post vacanziero, quindi dovrebbe ritornare alla normalità con quelle che sono le abitudini e i doveri quotidiani di tutti noi. Oggi parleremo anche di quella che è un'attività post vacanziera, vale a dire la cultura fisica, lo sport, la ginnastica, tutto ciò che serve per rimettersi in forma, perché durante la vacanza spesso ci lasciamo un po' andare, beviamo un bicchiere in più, mangiamo qualcosina in più, non controlliamo più l'abbinamento dei cibi, quindi dopo le vacanze ci troviamo un po' più diversi e quindi vogliamo riprendere quella che è la nostra forma fisica. Per farlo vi presento subito l'ospite che abbiamo qui in studio, si chiama Antonella Cristofalo, se la regia completa l'inquadratura perché ha una canotta che parla di Bolero Dance e Fitness. E allora, Bolero Dance e Fitness è praticamente la versione 2.0, chiamiamola così, l'evoluzione di Bolero Dance della… Se mi permetti la presento io. Esatto. Allora, la Bolero Dance è sicuramente conosciuta qui a Altamura, perché i maestri sono rinomati, Carlo Santoro e Sara, ha deciso di evolversi. Perché questo? Perché noi ci teniamo ad accontentare tutta la tipologia degli atleti, quindi anche la signora che vuole venire a fare un corso di aerobica piuttosto che un corso di step. Per fare questo abbiamo deciso di creare un Open Day, che sarà martedì 20 settembre, dove invitiamo tutti a venire a tastarci, a provarci e cominceremo dalle 9.30 alla mattina con i bali di gruppo e finiremo con il nostro top, il tango argentino con i maestri. Sarà una giornata full immersion? Una giornata dedicata allo sport. Fino alle 10, le 11 di sera? Certo. A tutte le ore troverete un'attività. Allora, non ho detto il nome dell'ospite, si chiama Antonella Cristofaro, avete capito dalla sua forma, dalla sua fisicità, che è un'istruttrice di… come si dice? Non dico bodybuilding, no, assolutamente. No, no, sono una fitness. Ecco, di fitness, quindi per chi vorrebbe avere una forma così perfetta, chi vorrebbe avere una bella tonicità muscolare… Diciamo che non è solo aspetto estetico, ma il fitness è soprattutto benessere. Anche interiore, come si suol dire. Corpo e mente, infatti. La palestra con cui la Bolliero Dance collabora si chiama Body and Soul, proprio per quello, perché il corpo e l'anima vanno in connubio. Quante volte la mattina ci svegliamo, ci guardiamo allo specchio e diciamo… l'aspetto esteriore non è uguale a quello che sento dentro. E invece noi puntiamo proprio su quello, a valorizzare, a far uscire e diciamo a riscattare un attimo il diamante grezzo e a farlo brillare di luce nuova. Ah, bella questa, il diamante grezzo perché in effetti… E noi lavoriamo sul corpo, siamo scultori, quindi l'atleta che diventa poi scultore di se stesso è l'apice di quello che si può ottenere. Oggi mi metto in gioco, la casalinga oggi si alza e dice mi metto in gioco, vado in palestra, vado in un centro fitness, vado a farmi valere. Quindi per chiarire, l'open day si svolgerà… Nella nuova sede, in via Eugenio Montale, l'ex estilos. Quindi in questa nuova struttura adesso ci sarà la Bolero Dance and Fitness, quindi questa… Ci siamo noi. Struttura ampliata, come dicevo, in apertura 2.0, ma per dare così quella che è un evoluzione. E quanti istruttori ci saranno per quanto riguarda il settore fitness? In quanti sarete? Cominceremo a fare lo spinning, la zumba, aerobica e step, il super jump che è bellissimo perché unisce il movimento dello step, quindi il saltare, senza però avere il contraccolpo che può avere magari le sollecitazioni per chi soffre di ernia, per chi non può avere movimenti sussultori, non può fare movimenti sussultori, lo riproduce su un tappetino ed è bellissimo. Magari, già che hai aperto questo fronte, altri esercizi particolari che si possono… Senti, promuoveremo anche molto il functional training, che è un riportare a livello funzionale alle normali armonie il corpo, per chi ha delle patologie anche piuttosto di ernie, oppure i ragazzi che soffrono di scogliosi, perché se tu li guardi, questi ragazzi tra telefonini, scuola, libri, hanno tutti questo atteggiamento cifotico che se non corretto diventa poi… Stai creando, come si dice, l'ansia… Diventa una patologia seria e poi dobbiamo andarla a curare, invece avendo dei piccoli accorgimenti con i nostri ragazzi, ma anche le signore, soprattutto per chi ha magari un sino un po' più prosperoso, che tende a nascondersi, invece no, dovete aprirvi perché la vita è bella, le vostre schiene sono importanti, curatele… Beh, insomma, avere la schiena dritta, tutto sommato, è segno anche di una buona postura… Noi facciamo questo con il functional training… Ecco, in quanti sarete a svolgere questa attività? Senti, una… 10 strutture in più sicuramente, perché ognuno poi ha il suo settore… Per il fitness… Perché comunque ci sono io e ci sono altre persone per lo spinning, per la zumba, per il pilates, perché anche il pilates noi non dobbiamo considerare anche gli allungamenti muscolari e quindi il benessere proprio per le articolazioni, andiamo a lavorare su tutto il corpo a 360 gradi, non tralasciamo nulla… Quindi, Bolero Dance & Fitness, come avete visto anche dalla… chiamiamola Canotta, è giusto il nome Canotta? Sì, sì, è una polo, diciamo… È una polo smanica… Senza manica… E quindi queste saranno anche un po' le nuove divise… Le nostre divise… Quelle degli istruttori, ovviamente, quindi in questo modo potrete riconoscere facilmente coloro che faranno appunto dai istruttori in questa attività che parte, come abbiamo detto, con un Open Day… Del 20 settembre… Del 20 settembre… Io gradirei, se possibile, per chi venisse a trovarci magari in via Bezzecca per avere l'ex… c'è la struttura… Quella basilare, sì… E la vecchia sede di Bolero Dance… Sì, 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 la struttura base, che poi siamo andati a aprire in via di Geni Montale, per le adesioni, soprattutto per lo spinning, per almeno la prenotazione delle bike, perché voi vi faremo provare uno spinning che non avete mai provato… Beh, insomma, adesso è bello, poi tutto sommato fare sport in generale… C'è il nostro istruttore che ha una passione per l'indoorcycling o spinning, che è talmente tanta che te lo trasmette, e quello è una cosa importante, trasmettere la propria passione agli atleti… Beh, diciamo che… Vieni anche tu, ti sto coinvolgendo… Sì, vabbè, io ho un po' di sport, perché sono in una fase un po' di rilassamento, devo essere sincero, è almeno quattro anni che non faccio più sport, giocavo a calcio, facevo nuoto, facevo un po' di tutto, adesso come si dice, stando qui, parlavi prima di questo atteggiamento che tutti abbiamo, fra telefonini, computer, scrivania, tendiamo un pochino anche alla guida dell'autonomia, c'è tutta una serie di situazioni, la postura è importante, perché una persona con la schiena dritta vuol dire che ha anche una bella muscolatura, perché è importante anche… È tutto di camminire, tutto… È la muscolatura che aiuta tutto il sistema… Nel core, il core è la parte del corpo che prende tutti i muscoli posturali e quindi va dal collo fino al sottogluteo, l'inizio dei bicipiti femorali qua dietro, più tonico abbiamo il core, quindi partendo soprattutto dall'addome, più dritti siamo, se siamo dritti siamo… Ebbè, se i muscoli sono rilassati… Come si dice… Cominceremo ad avvertire anche i dolori, perché comunque pur, diciamo, ho i dolori alle articolazioni, dove parte? Parte tutto di lì. Ecco, questa tipologia di esercizi, abbiamo sentito, sono tantissimi, a chi possiamo consigliarla? Le fasce d'età? A tutti, soprattutto il functional. Il functional parte dal piccolino fino all'adulto. Tutti, tutti possono fare sport. Quindi anche un sessantenne può venire tranquillamente. Voi venite… Munito di certificato. Sì, certamente, facciamo un'anamnesi personale, di lì poi indirizziamo, in base a quello che risulta, all'attività da svolgersi. Bene, quindi vedo che è una cosa interessante, ma… Sì, perché loro hanno deciso di rivolgersi a noi, perché loro sono specializzati nella danza e sono il top, al Tamura, e hanno deciso di rivolgersi ai migliori a Gravina. Sì, perché Antonella Cristofaro, tu hai una struttura anche… Io lavoro per la Body and Soul, di Francesco Montemurro. A Gravina. A Gravina. Ma mi dicevi nel fuorionda che hai anche una struttura a Spinazzola. Una palestra a Spinazzola, sì. Ho capito, quindi… Siamo nel territorio. Praticamente tutta la settimana in full immersion. Certo, anche di più. Quindi tu sei una di quelle che vive per lavorare, non lavora per… Certo, perché poi sabato e domenica c'è da fare le schede di allenamento, quindi… No, abbiamo conosciuto anche il fratello di Antonella Cristofaro, però voi non l'avete visto. È un tipo di quelli proprio, come si dice? Muscoloso. Ben messo, è come struttura fisica. Quanto tempo c'è bisogno, o meglio, in quanto tempo un corpo, non dico può diventare muscoloso perché quello è tutto un programma di lavoro, tonificare un corpo con quelle che saranno le discipline che seguirete, in sei mesi, sette mesi si possono già avere ottimi risultati? Innanzitutto ti dico che non tutti i corpi sono uguali, dipende dall'alimentazione, come tu mi segui alimentarmente, nel senso bisogna mangiare, non dico non bisogna mangiare, perché molti fanno l'errore che saltano i passi, ci sono grosse, non mangio, no, sbagliatissimo, peggioriamo la situazione perché andiamo a creare una sorta di sollecitazioni strane al corpo, perché poi subentrano i corpi chetoni, che sono quelli che mangiano, si nutrono dei muscoli e tratteniamo più acqua, quindi a lungo andare, non mangiando, perdiamo completamente la massa muscolare e accumuliamo acqua e grasso. Quindi succede esattamente il contrario di quello che uno vorrebbe? Sì. È come dire, avere un'auto senza benzina non può camminare, così è il corpo umano, quindi bisogna nutrirlo, nutrirlo in un certo modo. Frutta, verdura, carni bianche, il pesce che è importantissimo e anche una fonte di carboidrati a basso indice glicemico. Eh beh, diciamo, anche se lo zucchero si dice che nello sport aiuti moltissimo. Infatti ho detto, carboidrati, fruttosio anche, amidacei, però stando comunque attenti. Antonella, tu da quanti anni fai questo lavoro? Vent'anni. Cioè vent'anni, quindi come vedete? Io sono un'ex obesa. Un'ex obesa? Ah, adesso entriamo in un'altra sfera, entriamo. Sì, io pesavo 92 kg, portavo la 54 di pantalone, fino a quando mi sono innamorata del fitness. Questo è un risultato, anzi, io proporrei alla regia, visto che hai detto di essere un'ex obesa, è una cosa che non conoscevo, proporrei alla regia di magari completare l'inquadratura. Devo alzare. Se tu vuoi alzare anche, non c'è problema, perché è riuscita ad ottenere un fisico, ecco loro ti stanno già inquadrando, un fisico su quale ci hai lavorato tanto, mischiando fatica, sudore e controllando l'alimentazione. E poi diventa un piacere. Senti, ma lo sport richiede una vita regolare? Perché oggi siamo un po' tutti sregolati, andiamo... Divente in automatico una vita regolare, anche se tu ce l'hai sregolata, vedendo poi i risultati su te stesso, non sto parlando solo di asterti, perché io sto parlando di sentirsi bene, che oggigiorno è una cosa fondamentale, perché noi siamo sempre stanchi, siamo stressati e non capiamo cosa sia. E perché non curiamo il nostro corpo? Perché il corpo umano non è abilitato per la vita sedentaria. Dai tempi che furono, infatti, giochi olimpici e tutto. Non è... Il corpo umano ha bisogno di svolgere attività fisica. Serve come antistress. Mi arrabbio con la mia moglie, vado in palestra, scarico, torno un'altra persona. Beh, dipende dalle mogli, perché ci sono le mogli che ti aspettano al barco e non dimenticano. Beh, guarda che sei migliori. No, no, tutto dipende come ti poni. Dipende dalla lite che uno fa con la moglie, poi. Va bene, eh. In due giorni si sistemano, sono liti che durano anche... Dipende. Per ironizzare. Beh, tu parli da parte di uomo, io parlo da parte di donna. Sì, sì, sì. Siccome, diciamo, l'uomo è... Come anche le mamme. Oramai tende ad essere più pacifista rispetto a loro. Come anche le mamme, le mamme che sono dedicate ai figli. Una volta che i bambini tornano a scuola, ricavarsi un'oretta la mattina per se stessi fa tantissimo. Beh, no, in effetti è così. In questi giorni, come dicevamo, si sta ritornando alla vita normale, quindi in effetti anche le mamme hanno un momento di libertà perché i bambini richiedono impegno, dedizione, sacrificio. E quindi, perché no, ritagliare un'ora del vostro tempo per qualche giorno a settimana e provare questa nuova esperienza che nasce nella nuova struttura di Bolero Dance, che si chiamerà Bolero Dance & Fitness, nei nuovi locali presso Ex e Stilos in via Eugenio Montale ad Altamura. E quindi lì, come abbiamo detto con Antonella Cristoforo, il giorno 20 di settembre ci sarà l'Open Day, quindi la prossima settimana, dalle 9 e mezza di mattina. Con i bali di gruppo. Fino alle 9, alle 10 di sera, quindi durante il giorno, appena avrete un po' di tempo, ecco, vi suggeriamo di passare. Vi offriamo la possibilità di stare bene. E quindi si potrà anche testare, insomma, vedere. Certo, è fatto apposta l'Open Day, tutti possono venire, allenarsi senza impegno, senza alcun impegno. È una giornata free, diciamo. Per provarci. No, diciamo. Sì, 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 no, è completamente gratuito, è completamente gratuito, voi venite, vi allenate insieme a noi, state bene con noi, imparate a conoscere il vostro corpo, tutto fatto in maniera gratuita. Solo il 20 però. Solo il 20, veramente, stiamo parlando dell'Open Day. Uno lavora e insomma si lavora per la gloria. Bene, Antonella, siamo riusciti a trattare un po' tutta questa situazione da quello che è il lato giusto, insomma, quindi, e anche se vogliamo un po' promozionale, perché Carlo Santoro è anche un inserzionista pubblicitario di Canale 2, giustamente ci tiene a far sapere alla comunità di questa evoluzione della propria scuola di danza, che adesso diventa Bolero Dance & Fitness. Avete sentito, ci saranno una decina di istruttori che seguiranno per ogni tipologia di sport, di categoria, insomma, che deciderete di fare presso questa nuova struttura e quindi loro vi seguiranno, non solo sotto l'aspetto ginnico, ma anche sotto l'aspetto psicologico e anche con qualche consiglio alimentare. Alimentare, chiaramente. Per completare il tutto, tornando a quella che è l'alimentazione, voi date delle indicazioni, però non è che… Noi non siamo nutrizionisti, non ci permetteremo mai, quindi noi possiamo dire più o meno lo stile di vita alimentare che si dovrebbe tenere. Ecco, ma tornando sull'alimentazione, adesso abbiamo una fascia di utenti che clicca su internet… E mangia cibi spazzatura. No, 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 a parte quello che compra. Ah, le diete su internet. Fa la ricerca di una dieta ed è convinto di trovare quella di dieta. Voi da professionisti cosa volete consigliare? Come ti ripetevo per le attività di fitness, per il movimento, ogni corpo è diverso dall'altro e ha bisogno di una dieta diversa, perché quello che può andar bene a me non va bene per te. Quindi bisogna rivolgersi sempre ai professionisti del settore, perché come diceva qualcuno, se pensi che un professionista ti costa tanto, non saprai quanto ti costerà una persona che non ha i titoli. Come dice mia madre, se guardi la tua mano scopri che ogni dito è diverso dall'altro. E così sono gli esseri umani, quindi bisogna entrare in questa visione che non siamo tutti uguali. Apparentemente lo siamo, ma di fatto in realtà questo non accade. Ringraziamo Antonella. Grazie a te, grazie dell'ospitalità. Per essere stata qui con noi in studio, magari un giorno veniamo a spiarvi con le telecamere, vediamo un po' come si evolve. No, tu mi hai promesso che vieni all'open day all'anarti. Ci proverò, perché il 20, insomma… Io ho già un'attività da poterti far svolgere. Quale, sentiamo? Il Boca Dance, che è tutto lavorato sugli addominali. Eh, gli addominali è una parte che ho completamente abbandonato negli ultimi anni. Ti aspetto. Beh, insomma, io da ragazzino ero un ginnasta, quindi… E quindi non puoi mancare. Sono stato… Se lo promuovi… Eh, sono stato un atleta di ginnastica artistica anche abbastanza bravo, poi, insomma, con gli anni… Ti sei perso. Si fanno cose diverse, insomma. Eh, purtroppo mancavano le strutture. Si faceva sport sulla scuola, quando ero ragazzo io, quindi o facevi lì attività fisica o… O niente. O nulla. Poi sono cominciato a uscire le prime palestre di karate, di judo, ecco. Ma quello che è accaduto negli ultimi 15 anni, purtroppo io da ragazzino non ce l'avevo e quindi dovevamo barcamenarci con le partite a calcio. Eravamo più felici, però. No, io lo sono ancora, perché mi chiamo felice. No, dico, eravamo più felici nel senso che non avevamo… Socializzavamo… Sì, infatti. Eravamo tutti meno soli, perché… Vabbè, ma penso che le cose vanno e vengono nella vita, poi… Sì, sì, una volta. Si ritorna sempre alla normalità. Dopo le 23.59 inizia le 001, comincia il nuovo giorno, quindi fa buio e fa giorno sempre, quindi la vita è fatta di cicli, di corsi e ricorsi. Bene, chiusura abbastanza lunga e ci siamo dilungati. Grazie Antonella per essere stata con noi, con queste immagini, bolero, dance and fitness, questo primo piano su Antonella Cristofaro, che sarà una delle istruttrici che troverete nella nuova struttura. e noi vi salutiamo, come sempre Canale 2 c'è, vi dà appuntamento tutti i giorni in tv alle 14.30 e alle 22.30, in radio, la sera, questa puntata, l'ascolterete stasera alle 19 su Canale 2 Radio e in replica domani, a mezzogiorno, anche su Canale 2 Radio. Se poi vi siete persi proprio qualcosa, non vi preoccupate, perché la settimana successiva queste puntate vanno in replica sulla nostra seconda rete, Canale 2 Extra. Bene, amici telespettatori, è tutto anche per oggi, alla prossima, domani vi vedrete con Arturo Castoro.